Ciao ragazzi, ben ritrovati, pagelle di Real Societad Inter. Dico subito che ieri, dopo la partita, dopo il video che ho fatto su Twitch, abbiamo fatto una grande live. Mi è piaciuta tantissimo. Secondo me è stata una live super approfondita, dove abbiamo parlato bene della partita, di tutte le cose tattiche, anche spiegando dei dettagli tattici di alcuni movimenti, alcune cose, alcuni errori, eccetera, eccetera. Quindi vi invito a rivederla, la trovate su Twitch. Se siete abbonati al canale, la potete rivedere in differita. Anche con Amazon Prime, che è una sub gratuita, potete fare l'abbonamento gratuito. Adesso partirei con le pagelle, però vi dico subito una cosa. Siccome, ho fatto anche il video ieri, no? A riguardo, credo che il problema principale fosse tattico della partita, è chiaro che i voti dei singoli dei giocatori li ho dati pensando al fatto che c'è un problema alla base. E quindi senza penalizzare troppo alcuni giocatori che magari non hanno brillato. Quindi i voti non sono estremi, non sono troppo positivi o troppo negativi, sono abbastanza moderati, perché c'è questo presupposto. Lo dico subito. Partiamo da Sommer. Anzi, partiamo da un'altra cosa. Vi ricordo di lasciare like al video, di condividerlo e di iscrivervi al canale. Partiamo da Sommer. Sommer 6,5. Sul gol ha qualche responsabilità, in realtà, sia perché dà una brutta palla a Bastoni, l'ho rivista 700 volte quell'azione lì, anche per analizzarla, e dà una brutta palla. Il suo errore è quello, dà una brutta palla a Bastoni, che imbalza, da controllare, non bene, e poi anche sul tiro lui battezza un angolo sbagliato, cioè va a destra quando il tiro va a sinistra, quindi è come se si volesse tuffare prima del tiro, ma non benissimo. Però, a parte questo, poi ha tenuto a galla l'Inter in più occasioni, ed è merito anche suo se portiamo a casa un punto preziosissimo. Quindi, per me, comunque, alla fine il suo giudizio è più che positivo. Pavard. 6, a volte in posizione non ideale, ma migliorerà giocando, imparando, conoscendo i compagni, il modulo e tutto quanto, avrei voluto vedergli fare uno o due volte qualche lancio sulla sinistra, sull'esterno, Carlos Augusto, che aveva, in qualche momento c'era anche un po' di spazio, in larghezze, da una parte all'altra, perché loro difendevano molto alti, molto compatti e anche un po' stretti tutto sommato. Non è che avevano tutta l'ampiezza del campo. Quindi avrei voluto fargli, avrei voluto vedergli fare qualche lancio alla bastoni, pam, dall'altra parte. Vabbè, lo farà, capirà, eccetera. Però, il Dom6, perché è uno dei pochi a mantenere la serenità, la lucidità, anche sotto pressione, e spesso, anzi spessissimo, forse la maggioranza, anzi, quasi sempre, ha vinto tutti i duelli difensivi. Quindi io lo giudico positivamente, ha fatto anche degli interventi belli, ruvidi, ma efficaci, quindi buona la prima, anche se era un po' difficile la partita, per come si era messa. De Vrij, sei meno, perché è partita difficile per lui, eh. Spesso è dovuto uscire dalla sua zona, portato fuori da Ojer Zabal, che agiva da punta, da falso 9. L'avevo detto, è pre-partita, attenzione, che... ecco. E infatti De Vrij è stato molto spesso portato fuori zona, ha arrancato un po', partita veramente complicata, perché non aveva un punto di riferimento, e lui da difensore di copertura doveva invece andare fuori, no, e lasciare un po' sguarnita quella zona. Quindi, partita complicata, e non la sua partita ideale, diciamo così. Bastoni, ovviamente, è 5-5, insufficiente. Qualcuno magari ci aspettava 4 o altre cose, ma riesumo quello che ho detto all'inizio, il presupposto fondamentale. Sbaglia sicuramente a non spazzare e commette, perché lì deve spazzare la palla, e commette un errore che porta comunque al gol. Non è solo lui il colpevole numero uno, perché anche Sommer, vi ho detto, no, e anche un altro poteva fare quel cosino in più, però, insomma, Bastoni è quello che ha sicuramente più percentuale di colpa sul gol. Però, bisogna dire che quella situazione derivava da un problema tattico, ma grande come la casa, evidente, evidente. Oltre che, vabbè, a una brutta palla di Sommer. Non aveva opzioni di passaggio, l'ho vista tante volte quell'azione lì, veramente tante, tante volte, in dettaglio, anche a rallentatore, vedendo i frame, come si ruota la testa Bastoni, dove guarda Bastoni, e tutto quanto. Non aveva opzioni di passaggio credibili, neanche una, però lui è un regista, è il regista dell'Inter, della costruzione dell'Inter. Quindi, è proprio una cosa predefinita che ha lui, e che gli viene anche chiesta. La prima cosa che fa Bastoni, quando alza, quando riceve la palla, è alzarla da testa, e guardare i compagni. Non guardare gli avversari, guardare i compagni, perché deve fare regie e costruire il gioco. Se gli arriva una palla bruttissima, da controllare, perde già il tempo, perché non può controllare, come fa lui con la sua qualità, controlla la palla, ha già la testa alta, e già sa cosa fare, sa già cosa fare quando la controlla, perché si vede già intorno. Lì non lo può fare, perché deve controllare una palla brutta, allora perde già un tempo di gioco. Poi, quando alza la testa, cerca i compagni, il primo che guarda, se non sbaglio, è Pavard, a destra, mi pare. O forse, anzi, forse, o è Aslanio, Pavard, che gli vengono incontro, un po' sulla destra, così. E la prima parte dove guarda, ma capisce, non posso dare la palla lì. Allora poi si gira sulla sinistra, perché? Perché vede che è pressato aggressivamente da un uomo, e quindi deve spostarsi la palla, non può star fermo, e non ha anche il tempo di passare indietro in maniera goffa, quindi si sposta la palla, ma è già lì, è già lì, al primo, al primo spostamento della palla, che abbiamo perso l'azione. Prima ancora che Bastoni perda, poi, la palla. Chiaramente, scappa, prova allora ad andare, a destra non si può, al centro no, prova a vedere la sinistra, ma anche a sinistra c'è l'opzione marcata, o meglio, c'è una marcatura preventiva, cioè c'è già l'uomo degli avversari pronto ad andare fuori in pressione, quindi non può dare la palla. Nel rugby si direbbe, in Veneto, bala omo, cioè, che gli dai la palla all'uomo che è già marcato, e tu praticamente gli la dai mettendolo in difficoltà. E quindi, e quindi non può farlo, deve portare ancora la palla, ma non sa dove è l'uomo che lo sta pressando, che lo sta rincorrendo dietro, e quindi se l'allunga troppo, e lì c'è la doppia pressione e perde palla. Lì avrebbe dovuto, non sapendo, leggere e scrivere, boom, bah, spazzo a caso, butto via la palla in difficoltà. Non l'ha fatto, certo, un errore, ma è tutto una frazione di secondo, ed è dato dal fatto che la situazione tattica di base dell'Inter era allucinante, folle, non avevamo proprio, come se fossimo impreparati all'avversario, e quindi siamo andati sotto pressione. Questo è, andiamo avanti, Doomfries, Doomfries 5,5, perché è in difficoltà dall'inizio con un passaggio sbagliato che porta al primo palo degli avversari, la qualità non è il suo forte, lo sappiamo, poi si è pressato a maggior ragione, spesso è preso anche in infilata dagli avversari di dietro, davanti, scusate, di dietro, sempre infilata, e sempre dietro, però una volta a destra, una volta a sinistra, all'interno, all'esterno, è in difficoltà anche lui, ha lottato, ci ha messo grinta, quindi 5,5 glielo do, però anche lui un po' in difficoltà, come tutti, come tutti. Barella, 5,5 anche lui, ho visto anche dei giudizi più negativi su Barella, anche 5, ho visto anche dei 5, 5 bassi, anche 4,5 in giro, per me 5,5 ragazzi, sinceramente sì, vabbè, non è al 100% del fiato, l'ho detto anche la scorsa partita, che avrebbe bisogno di un po' di riposo. Se poi però ci mettiamo il pressing allucinante degli avversari, quel tipo di partita che abbiamo visto, e la fatica di giocare con la palla da parte dell'Inter, ecco che sappiamo che Barella un po' si nervosisce. Attenzione però, io l'ho visto molto meno nervoso di come sarebbe stato in una situazione del genere in passato. Cioè, io l'ho attenzionato Barella, mi aspettavo che veramente desse di matto, e non l'ha fatto. e non l'ha, cioè, quindi, vedo già un miglioramento, e quindi, bene, cioè, il Barella di qualche mese fa sarebbe completamente fuori di testa, avrebbe cominciato a fare cazzate. Cioè, ieri si è anche contenuto, e comunque l'intensità, lui, per quanto ha potuto, tolto il fiato, ma, ce l'ha messa, ha provato un attimo con dinamismo a correre, a farsi vedere, a dare intensità e tutto. Chiaro, 5 e mezzo, però, non lo vedo così, non l'ho visto così negativo come qualcun altro l'ha visto. Aslani, 5, costantemente sotto pressione, sotto pressione avversaria, marcato a uomo, e tutto quanto, e sappiamo che non è un fenomeno, diciamo così, a smarcarsi lì in mezzo, ne ho parlato tante volte, però attenzione, ieri avrebbe fatto fatica anche Cialanoglu, cioè, qualcuno pensa, eh, con Aslani, l'interno non ha girato, colpe di Aslani. No, no ragazzi, ieri avrebbe fatto fatica anche Cialanoglu, magari Ciala, invece del 5, poteva fare un 5 e mezzo, ma avrebbe commesso qualche rolino in meno, sì, ma poca roba, era veramente ingiocabile la partita come pensava l'Inter di fare. Forse solo Brozovic, in questa partita, con la sua capacità di muoversi un sacco, di andare fuori dalla pressione, di mandare fuori da pressione avversaria, forse solo lui avrebbe potuto ottenere un 6, ma non di più, perché la partita comunque era complicata per l'idea come voleva farla l'Inter. Certo, Aslani ha pagato l'età, è un po' l'inesperienza, forse anche sul gol subito, un 10% di responsabilità ce l'ha un po' anche lui, nel senso che la prima cosa che ha fatto quando ha visto Bastoni cadere e tutto è sbracciare con l'arbitro e chiedere il fallo, no, cioè, se l'ultimo uomo vai, corri in copertura in maniera reattiva, ecco, forse lì c'è la Noglu, sarebbe stato un po' più reattivo, forse in quella chiusura lì, poi magari non avrebbe salvato il gol, però ecco, ma poco altro, cioè, la partita era difficilissima per un regista ieri sera, quindi, Aslani ha pagato un po' di più di altri, ma non pensiate che sia Aslani il problema della partita di ieri sera, assolutamente. Mkhitaryan, anche lui, la prova, Mkhitaryan cosa ha fatto meglio di Aslani? Barella, poca roba meglio di Aslani. Mkhitaryan 5,5 perché non ha commesso grandi errori, ecco, solo per quello, ma di per sé non ha potuto inserirsi perché non abbiamo mai tenuto la palla e non siamo mai arrivati in area, non ha potuto ricevere o portare la palla perché siamo sempre stati sotto pressing e pressing, tra l'altro, aggressivo a uomo. Non ha neanche potuto andare in ripartenza, in transizione, che sappiamo che ha grande conduzione della palla a Mkhitaryan perché loro hanno fatto che game pressing e non c'è la possibilità di fare ripartenze perché non c'erano spazi allargati per partire col palla a piede. Quindi, totalmente inutile, risulta poco utile, neutralizzato e di fatto, insomma, il nulla, ha fatto solo un po' di prese, non ha fatto errori ma non ha fatto nient'altro, anche lui, reso totalmente inutile. Carlos Augusto, ragazzi, oh, 6,5, io, a me è piaciuto molto, nel senso, considerando la partita, cioè, non è che, nessuno ha fatto faville, chissà che giocate, la partita era così, ingiocabile, l'Inter ha giocato sbagliata, quindi, però Carlos Augusto a me è piaciuto molto, molto, perché l'ho visto molto attento dietro, su Cubo, anche che è un giocatore complicatissimo da gestire, e poi ho visto un'intensità pazzesca per 95 minuti, anche alla fine, anche da ultimo uomo, intensità, corsa, veramente, determinazione, l'ho visto praticamente inesauribile, questa è un'ottima notizia, se pensiamo che invece Di Marco è un giocatore che ha la resistenza un po' così, e quindi avere un Carlos Augusto che ogni tanto può giocarti anche tutta la partita sulla fascia in questa intensità è una bella roba, è andato anche vicino all'assist, tra l'altro, dopo una percussione sull'esterno, in profondità, e per me è una delle poche notte liete di ieri, francamente. Lautaro, sei, la partita impostata da Inzaghi è quasi ingiocabile per le punte, ok? Di per sé la sua performance da cinque, pressato, raddoppiato, si è venuto incontro, ha perso palloni, ma non per colpa sua, nel senso, cos'è che poteva fare di meglio? Faccio fatica anche a pensarci, ha corso a vuoto, senza palla ha corso a vuoto, per contropressare gli altri, ma ha speso tante energie psicofisiche, cioè fisiche, ma anche mentale, perché poi quando un attaccante corre a vuoto, non può tenere un pallone, tutto quanto, sprechi te, energia di corsa, di cose inutili, e in più anche mentalmente ti pesa anche di più, perché sei totalmente, non sai dove guardarti, e quindi poi la paghi anche di più la stanchezza e la lucidità, no? E il risultato qual è? Che scivola, che incespica, che sbaglia, giocate, anche passaggi abbastanza semplici, buttandola direttamente fuori, insomma, questo è, però riesce a trovare un gol, comunque in tutto questo, di pura adrenalina e rabbia, quindi io gli do 6 per questo, bravo a trovare quel gol pesante, ragazzi, un gol di rabbia, da toro, diciamo così, che comunque conta, quindi strappa un 6 per questo motivo. Arnautovic, che invece non ha fatto il gol, 5 più, perché poi ha fatto praticamente un po' come Lautaro, è tolto il gol, è quello che cambia, ma la prestazione è simile, non uguale, ma simile, 5 più non è, non è proprio la sua partita, ancora peggio di Lautaro, c'è come caratteristiche, non è proprio la partita per lui, non doveva giocarlo, sta partita. Metterlo, di fatto, è stato un aiuto agli avversari, perché abbiamo dato un riferimento agli avversari quando serviva attaccare lo spazio, abbiamo messo peso quando serviva agilità, abbiamo messo un uomo d'area quando loro difendevano a 40 metri dall'area, quindi capite, cioè proprio, cos'è che serve oggi? Ok, il contrario, abbiamo messo proprio il totale opposto, diciamo che per me l'Arnautovic sarebbe ingiudicabile, quasi come, anche l'automatismo, come faccio dare un giudizio? Un giocatore che ha giocato una partita che non doveva, totalmente fuori, boh, e comunque 5 più, diamogli in 5 più, la colpa sua, l'unica forse sua colpa è di aver eseguito in maniera troppo precisa, troppo rigida, quello che gli è stato chiesto, forse Gekko, che è un giocatore che ha un'intelligenza tattica, pazzesca, pur avendo caratteristiche anche Gekko sbagliate per questa partita, magari Gekko avrebbe strappato un 6- perché si sarebbe reso utile, perché avrebbe interpretato comunque la partita anche un po' a suo modo avendo questa intelligenza e sarebbe partito in profondità anche non avendo quelle caratteristiche avrebbe un po' provato a fare altre cose oltre quello che gli ha detto il tecnico, ma questo è perché Gekko, perché ci sono rari giocatori che hanno un'intelligenza che sì, il mister gli dice delle cose, ma poi loro hanno questa saggezza e sanno comunque un po' fare anche altre cose, anche se non è loro, ma quello è, voglio dire, non c'erano le caratteristiche giuste, Turam 6 e mezzo, altro nota positiva ovviamente per caratteristiche, non perché abbia fatto tutto giusto, ma insomma per caratteristiche che erano giuste, e infatti ha toccato pochissimi palloni, ma da quel poco che ha potuto fare si è capito subito quanto potesse essere pericoloso, in tutte le azioni, quei tre palloni che ha avuto, in tutti e tre è stato pericolosissimo, no? Non è riuscito a segnare solo per il game fuori gioco di 10 centimetri, la palla forse è un po' in ritardo, però, vabbè, però c'era e ha segnato di fatto, no? E proprio in profondità andando ad attaccare proprio la linea in porta e è scivolato poi su una sterzata pazzesca che aveva fatto, però comunque ha creato un pericolo se non scivolava la sterzata era ottima e poteva essere un'occasione importante che è quella che si era autocreato proprio anche lì in velocità, in profondità, no? Quello che ci è mancato tutto il resto della partita e poi ragazzi poi di fatto lui secondo me ha cambiato la partita cioè cambiato da solo è potuto fare che però ha mostrato quello che ci serviva prima e l'ha un po' portato, no? È partito è andato in profondità che prima non avevamo è scattato ha superato ha superato anche gli avversari a volte anche autolanciandosi era quello che serviva dall'inizio invece noi l'abbiamo visto solo pochi minuti alla fine alla fine ovviamente dico pochi minuti anche se ha giocato 35 minuti perché di fatto l'Inter comunque anche gli ultimi 30 minuti non è che abbia avuto grande gioco grande possesso e cose e poi abbiamo anche cambiato modulo e tutto quindi veri minuti veri giocati con ordine e tutto non è che abbiamo fatti tanti comunque quindi in questo senso poi andiamo da Di Marco Di Marco 6 perché comunque è entrato benino ha dato tecnica ha dato fiato ha dato intensità che insomma in una partita con questo pressing di questo tipo sono cose vitali sono cose fondamentali quando si è pressato fortissimo deve avere intensità e fiato per essere veloce andare fuori dal pressing o correre via oppure tecnica per il primo controllo il passaggio perfetto perché se sotto pressione è più difficile quindi uno come Di Marco è importante Don Friso va più in difficoltà se è pressato hai poca tecnica già sbagli il primo controllo se hai già messo male ecco dicevo Di Marco chiaramente poi nel momento in cui è entrato loro si sono anche un po' abbassati gli ultimi 10 minuti sono un po' abbassati anche forse perché c'era Turan qualcuno ha detto ah qualcuno ha detto no sono scoppiati non avevano più non avevano più fiato sì forse sono un po' calati ma la realtà è che si sono abbassati cioè proprio è proprio l'aspetto tattico che è cambiato si sono proprio abbassati loro per scelta non perché oh non ho il fiato cioè la partita è cambiata ultimi 15 minuti abbiamo avuto più possesso perché loro hanno proprio deciso di abbassarsi forse perché c'era Turan ed è quello cioè Turan era importante dall'inizio perché questa è la dimostrazione perché se lo metti e loro sono altissimi parte in velocità e semina il terrore se invece loro si abbassano perché c'è Turan beh ok Turan non ha più la profondità ma l'Inter può fraseggiare come sa fare e portare palla e arrivare in maniera manovrata quindi era win win bisogna mettere Turan dall'inizio beh comunque non torniamoci dicevo di Di Marco alla fine infatti loro abbassandosi noi abbiamo acquistato un po' più di campo e di ampiezza e spostandolo anche come quinto Di Marco comunque ti dava ampiezza ti dava quel piede quella possibilità anche sull'esterno volendo anche se non è stato sfruttatissimo frattesi sei più oh per me anche lì buono è entrato bello carico dando fiato anche lui dando verticalità che era quello che mancava inserimenti verticalità corsa eccetera e sicuramente il migliore è il centrocampo poco da fare centrocampo tra tutti quelli che sono girati il migliore in campo ha causato fortunatamente anche il gol in maniera un po' episodica però di fatto è stato anche utile a quello credo sia ora che parta dall'inizio le prossime le prossime volte almeno prossimamente per dare un po' di riposo a qualcuno che forse ne ha anche bisogno tra Mkhitary e Nebarella Sanchez sai meno io ho letto in giro ecco da quando è entrato Sanchez è cambiata la partita lui è cambiata la partita cazzate cioè questa è l'anti-analisi questa è la classica correlazione che però non ha causalità non ha nessi cioè non è che sì è cambiata la partita da quando è entrato Sanchez cioè nel senso da quando abbiamo fatti i cambi diciamo l'ultima parte della partita ma non per Sanchez per altre cose sì la fatalità era entrata anche lui ma non è cambiata per Sanchez la partita questo è correlazione e causalità sono cose che in Italia purtroppo facciamo facciamo molta confusione tra le due perché non si fa analisi che non è solo sul calcio ma in tutto in generale non si fa analisi quindi non si capiscono le cose si guarda ah guarda caso l'Inter è cresciuta ah guarda grazie a Sanchez allora sarà stato Sanchez no Sanchez è entrato per dare in teoria qualità e fantasia la realtà è che ha finito per causare confusione e improvvisazione sì certo era fresco ha avuto un po' di energia un po' di così un po' mosso eh ma improvvisazione e confusione anzi l'Inter finché non si sono abbassati loro che è quella la causa perché siamo un attimo cresciuti non per Sanchez finché stavano comunque alti c'era solo un casino cioè abbiamo cambiato modulo e Sanchez era solo caos e l'Inter era uguale si perdevano palloni non si faceva nulla e si rischiava e non si combinava niente ok chiaro questo voglio dirlo perché Sanchez non so non so perché muove questo mediaticamente forse perché sta simpatico perché è il campione questa roba qua e quindi no ma comunque lasciamo stare se siamo riusciti a fare un gol è solo perché loro sono abbassati a causa di Turam e per l'episodio Sanchez non ha contribuito a chissà che cosa sei meno ecco to Inzaghi per concludere tre ragazzi perché l'ho detto all'inizio la colpa principale è sua della partita e questo spiega i vari errori tecnici individuali e altre cose la partita era inciocabile in questo modo e ci siamo complicati la vita ci siamo messi sotto una difficoltà pazzesca ok abbiamo messo tutti i giocatori chi più chi meno in condizioni estreme di complessità e quindi chiaro che gli sbagli anche di più preparazione tattica quindi pessima analisi dell'avversario nulla per non dire altro poi abbiamo rinunciato ha rinunciato a Turam scelta sbagliatissima a livello proprio tattico e strategico doveva intervenire subito a mio avviso dopo 15 minuti subito con delle indicazioni tattiche diverse cambiando qualcosa nel livello tattico non sto parlando di cambiare modulo ma cambiare proprio dei compiti delle consegne delle indicazioni ecco così almeno per temporaggiare qualche minuto prima dei cambi e se non vi fossero non si fossero palesati dei miglioramenti con queste indicazioni bisognava operare un cambio subito mettendo magari Turam immediatamente magari al trentesimo minuto anche se era il primo tempo perché ripeto quello che ho detto ieri il rischio di subire altri gol è stato n volte c'è veramente ordini di grandezza due o tre ordini di grandezza di volte in più rispetto a la possibilità di farli i gol quindi abbiamo rischiato molto di più di subirli e quindi a questo punto sprechi un cambio sì ma cioè è conveniente farlo se rischi di prenderne 4 al primo tempo come abbiamo rischiato noi beh insomma forse non è il caso di rischiare di subirne 4 e di farne 0 di fatto tenendo non sprecando il cambio spreco il cambio e spero che la cosa cambi e di non rischiare di seguire 4 gol magari di farne noi 1 quello è semmai il tema quindi abbiamo rischiato tantissimo Inzaghi ieri ha aspettato il sessantesimo ha rischiato tantissimo perché poteva essere già 3 4 5 a 0 la partita a quel livello lì se non succedevano i pali e traverse o altre cose e poteva essere veramente una batosta clamorosa oltre che 0 punti quindi ci è andata veramente di lusso è stato graziato dalla sorte e dallo spirito di sopravvivenza dei suoi giocatori che hanno dato veramente il massimo pur in difficoltà e sbagliando ma non hanno mollato ecco quello intendo dire e deve ringraziare Sommer poi diciamolo pali deve ringraziare i pali anche le traverse e forse anche gli dei dell'Olimpo soprattutto Dioniso che magari ha dato qualche vinello agli avversari che hanno centrato questi pali e traverse invece di buttarla dentro quindi deve veramente fare un sacrificio sull'altare di qualche tempio greco detto questo Sanchez poi è la mossa della disperazione ma così di fatto è una mossa praticamente comunque sbagliata certo non c'era molto alto il panchino e quindi si è buttato dentro va bene però praticamente ha ingolfato ancora di più il centro del campo quando occorreva fare il contrario cioè allungare il campo allargare il campo per fortuna ci hanno pensato loro ad allungare un po' il campo allargare un po' il campo negli ultimi 10 minuti 15 minuti abbassandosi un po' grazie a Turan però grazie al fatto che c'è forse Turan quindi ecco ma altrimenti aiuto anche Sanchez non serviva a nulla peccato forse ecco non aver avuto quadrado in panchina perché ieri poteva servire un po' con la sua qualità con il suo puntare l'uomo magari a creare una mezza cosa in più ecco forse 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 comunque in ogni caso uno scivolone capita a tutti anche ai migliori e secondo me Inzaghi è tra i migliori continuo a dirlo poi io sono obiettivo spero di esserlo e quindi se anche mi piace un sacco qualcuno un mister un giocatore eccetera se per me fa malissimo dico che fa malissimo quando non è così invece lo premio eccetera questa è la dimostrazione Inzaghi per me ieri tre e però rimane per me un grande uno dei migliori anzi spero che ieri abbia imparato qualcosa in più per perfezionarsi ancora di più e andare verso l'ideale veramente meraviglioso di mister che spero possa raggiungere un giorno e comunque c'è vicino perché è un grande secondo me adesso testa all'Empoli sperando di dimenticare questa prestazione tattica della squadra per come siamo scesi in campo ieri ragazzi vi saluto forza inter supportate il canale mi raccomando io ce la metto sempre tutta per portare contenuti di qualità contenuti di approfondimento senza badare a compromessi però insomma chiedo il vostro supporto e confido nel vostro nel vostro sostegno ragazzi vi saluto forza inter e a prestissimo grazie a tutti